Ciao a tutti ragazzi, le Juventus Women battono la Novese per 8-0 e vanno ai quarti di finale di Coppa Italia. La vittoria delle ragazze di coach Guarino allo stadio costante Girardengo di Novi Ligure, stadio dove la Juventus maschile non aveva mai vinto ad esempio, nonostante fosse casa anche della squadra maschile della Novese. Quando si vince così c'è poco da dire, solo fare i complimenti alle ragazze che hanno messo oltre che tante ragazze esperte che giocano da un po' di tempo in prima squadra, anche tante, come posso dire, brutto dire riserve, ma ragazze che giocano meno e anche tante primavera. Da segnalare la tripletta di Caruso, che comunque anche se è giovane è veramente ancora già, sembra una veterana da come gioca. Da segnalare la doppietta di Ketiro, le altre reti poi sono state segnalate da Masu, che sono state segnalate, mancano due, chi è che l'ha segnalata, vado a memoria, Ketiz e Lem e me ne manca uno. Vabbè comunque manca uno, adesso poi ve lo dirò, intanto la cerco. Comunque assolutamente c'è poco da dire, solo fare i complimenti e adesso entriamo in zona allerta, nel senso che adesso comincio nel quartiere di finale, inizia quasi come di un'altra competizione e adesso soprattutto entriamo in una situazione veramente tosta, nel senso che... Sto guardando chi è che ha segnato... Ah, Michela Franco, il primo gol da Michela Franco, che pistola, mi sono dimenticato. Entriamo nel momento e nemmo meno nella parte difficile, perché andremo a giocare il quartiere di finale contro il Brescia e ci giochiamo col Brescia praticamente, ci giochiamo il campionato e ci giochiamo anche l'accesso alle semifinali di Coppa. Non sarà facile, perché Brescia è veramente tosta, è una squadra che avrei preferito non affrontare, però giustamente non affrontarla soprattutto ai quartiere di finale, magari affrontarla più avanti. Daremo tutto, perché so che le ragazze daranno tutto e saremo sempre qui ovviamente, oltre che a seguirle col cuore, a seguirle anche col tifo, come sempre fatto. Saluto come sempre gli amici di JWS, Juventus Women Supporter, che erano Novi Ligure, a cui va un grosso un grosso applauso per quello che fanno per le ragazze. Io chiudo qua il video e vi do appuntamento col prossimo video sulla Juventus Camminile, che sarà sabato post Sassuolo Juventus. Ciao!